Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, nuovo video, altro giro, altra corsa, parlo ancora una volta di nuoto oggi voglio parlarvi di resistenza e propulsione, queste due forze che sono in contrapposizione fra di loro una ci porta in avanti, l'altra invece tende a bloccare il nostro avanzamento la resistenza infatti è quella forza che si oppone all'avanzamento del nuotatore in acqua la propulsione invece è la forza che applica il nuotatore appunto per vincere la resistenza una nuotata ottimale andrà a ottimizzare al massimo la propulsione riducendo al minimo la resistenza tutto questo può essere riscritto con la terza legge della dinamica di Newton che dice che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria in sostanza alla propulsione questa forza che ci porta in avanti corrisponde una forza resistente che tende invece a farci rimanere fermi la domanda quindi è cercare di descrivere le forze propulsive che interessano il moto del nuotatore ci sono tre teorie sviluppate rispettivamente negli anni 60, 70 e 80 che prendono il nome di teoria convenzionale, teoria classica e teoria dei vortici che descrivano diciamo così in modo abbastanza completo il sistema complesso di forze che stanno intorno al moto del nuotatore la prima teoria che ha provato a descrivere il moto di un nuotatore in acqua è la teoria convenzionale sviluppata negli anni 60 che parte dall'assunto che il nuotatore con la sua abbracciata vada a pescare acqua chiamata ferma dopo vedremo perché ferma in sostanza questa teoria si basa sul concetto di differenza di pressione tra la parte posteriore del palmo dell'avambraccio e del braccio e la differenza di pressione tra la parte invece anteriore di palmo avambraccio e braccio questa differenza di pressione genera come si diceva una spinta una differenza di potenziale e quindi una spinta in sostanza è quella che succede quando si immerge un remo di una barca in acqua e si ha spinta propulsiva in avanti generata dalla differenza di pressione tra le due facce del remo una seconda teoria molto più elaborata prende il nome di teoria classica ed è stata concepita negli anni 70 in questa teoria si afferma che la bracciata del nuotatore si trova acqua ferma ma solo nella sua prima parte della bracciata successivamente quando la bracciata si sviluppa se il braccio rimane dritto, fermo, incernierato alla spalla come un remo di una barca l'acqua che andrà a trovare non sarà più acqua ferma ma sarà acqua in movimento generata appunto dall'avanzare del braccio nell'acqua per trovare acqua ferma a questo punto secondo questa teoria il nuotatore deve compiere degli spostamenti longitudinali e trasversali sotto il suo corpo per andare a pescare nuova acqua ferma e per generare una propulsione più efficiente questo concetto in sostanza va a sviluppare ancora di più la teoria convenzionale definendola in questo modo classica una terza teoria è quella sviluppata negli anni 80 che è stata denominata teoria dei vortici secondo questa teoria infatti un corpo in movimento in un liquido genera sul suo profilo dei vortici questi vortici ruoteando generano una differenza di superficie e di conseguenza una propulsione tanto per farvi capire quanto siano interconnesse fra di loro queste tre teorie prendiamo ad esempio la nuotata o meglio la bracciata di un nuotatore velocista il quale per buona parte della sua bracciata avrà una bracciata molto ferma simile a quella di un remo in acqua ma che poi a un certo punto nel suo punto più profondo andrà a cercare anche un pochino di acqua ferma come diceva la teoria classica infine una nuotata di un velocista è sicuramente una nuotata molto veloce che genererà in acqua dei vortici e che renderanno la presa della mano sull'acqua molto più ferma insomma ragazzi come dicevo prima non c'è un'unica legge che descrive la nuotata perfetta ma ci sono queste tre leggi che interpolate tra di sé riescono a descrivere molto bene il moto di un nuotatore in acqua ok ragazzi la lezione di teoria termina qua noi ci vediamo al prossimo video per il resto buon allenamento iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ciao ciao ciao